Mary Jane ASMR Ciao ragazzi, bentornati Come state? Tutto bene? La vostra Mary Jane vi augura sempre il Melly Vi mando, come sempre, tanta luce Oggi, come avrete già letto dal titolo e visto dalla copertina Andremo a rilassarci con uno Speed, 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 speed Painting So che ormai Come dissi l'altra volta ci sono allevazioni Pro, contro, speed painting Ma io lo faccio comunque per chi può amare questa tipologia di video che qui sul mio canale va anche bene In fin dei conti è apprezzato Oggi lo speed painting lo faremo Andrò a farlo in modalità lenta Slow Sperando che riusciate a godervi tutti i sound che ne conseguono Buon ascolto Buon ascolto Ma soprattutto Buon rilassamento Ah, non dimentichiamoci il like se vi piace il video E iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Cliccando sulla campanella Attiverete le notifiche Oc 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 I Grazie a tutti 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 Grazie a tutti